Ancora un tema che è assolutamente attuale, le elezioni regionali in Sardegna. Questo governo non si occupa dei temi che ho riassunto, non si occupa realmente di sicurezza, non si occupa realmente dei lavoratori sottopagati, dei lavoratori in difficoltà, di politiche adeguate per quanto riguarda il mercato del lavoro, però si occupa, abbiamo visto, di terzo mandato e in questi minuti adesso, se non stanno litigando, Meloni, Tajani e Salvini sono sul palco a declamare gli ennesimi slogan da campagna elettorale, hanno preso un aereo, sono arrivati a Cagliari, domenica si vota e quindi loro sono lì a far campagna elettorale. Ci potete giurare, Giorgia Meloni arriverà come i suoi vicepresidenti, saliranno sul palco, ci riempiranno di nuove promesse, ma abbiamo già visto che non riescono a mantenerne una che sia una e nello stesso tempo ovviamente ripartiranno, non si fermeranno un minuto ad ascoltare.